700.000 euro. A tanto ammonta il valore complessivo dei beni sequestrati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari ad un pregiudicato andriese di 66 anni, Giovanni Facciano, attualmente detenuto nel carcere di Bari. L'uomo venne arrestato nel marzo dello scorso anno insieme a suo figlio Leonardo, nell'ambito dell'operazione denominata Bait relativa ad un traffico internazionale di droga. Le indagini, condotte dal comando provinciale dei carabinieri di Roma, fecero emergere il ruolo di primo piano ricoperto dal 66enne, contemporaneamente organizzatore e finanziatore, insieme ad altre persone, della vendita degli stupefacenti. Un commercio redditizio tra Nicaragua e Italia che prevedeva il trasporto di enormi quantitativi di sostanze, soprattutto cocaina, nascondendoli ad esempio in piete trasportati a bordo di container. Il provvedimento di sequestro è stato emesso in base alla normativa antimafia dalla sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Trani. Tra i beni sequestrati, tre appartamenti, tre box auto, due terreni, uno ad Andri e l'altro a Trani e l'impresa edile di famiglia. Da un'analisi approfondita del patrimonio dell'intero nucleo familiare, gli uomini della DDA hanno accertato come il pregiudicato, a fronte di un reddito vicino alla soglia di povertà, aveva effettuato nel corso degli anni numerosi acquisti e vendite immobiliari, sostenendo anche mutui da 1200 euro al mese. Nel solo triennio 2008-2010, ad esempio, l'uomo aveva dichiarato al fisco un reddito pari a 900 euro l'anno, mentre quello del 2012 era addirittura pari a zero.